Le dimissioni sono attese per la metà di ottobre, ora è ufficiale, Massimo Ferrarese esce allo scoperto e afferma mi candido al Parlamento. Lo farò per due motivi, spiega il Presidente della provincia. Il primo perché una legge ha cancellato la mia provincia, il secondo perché ad ammazzarla è stata l'incapacità di tutti i parlamentari locali che non hanno saputo difenderla, a differenza di altri che hanno tutelato il loro territorio. Devo andare per difendere questa terra e invito a candidarsi tutti coloro che vogliono fare lo stesso. Ferrarese resterà in carica ancora qualche altra settimana, giusto il tempo per continuare la battaglia intrapresa per il riconoscimento di Brindisi capoluogo in caso di accorpamento con Taranto. Ci proverò fino all'ultimo giorno utile, conclude il Presidente della provincia. Bisogna aiutare Brindisi e gli altri paesi. Sostengo che una grande provincia con Taranto possa contrastare anche la forte provincia di Lecce, ma bisogna Grazie a tutti.